Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corico Monpiemonte. Buongiorno, mi chiamo Don Diuri, sono sacerdote ucaino che attualmente lavora a Novara, Diocesi di Novara. Ringrazio per la possibilità da parte del RAI di essere qua oggi presente. Il tema che abbiamo scelto è parlare dell'accoglienza, essere accolti e accogliere gli altri. Posso parlare con la mia esperienza cosa vuol dire accoglienza perché credo di essere fortunato di trovare nella mia vita tante persone che mi hanno testimoniato con le loro opere cosa vuol dire accoglienza. Quindi da 18 anni che sono in Italia, arrivato avendo 23 anni, ben ordinato, mai pensato di fermarmi a vivere in maniera continua in Italia perché lo scopo originale era quello di finire studi a Roma e poi rientrare nel paese. Non è andato secondo il mio progetto, ma il Vescovo della Diocesi di Novara mi ha chiesto di rimanere a dare servizio alla comunità ucaina che allora appena si è creata. Per un periodo di circa tre anni, così da 2003, ormai sono passati 18 anni, sono ancora qua a seguire questa comunità. Ringrazio soprattutto la Chiesa Novarese, la Chiesa italiana, per l'accoglienza fatta agli ucaini e anche a me personalmente. Vorrei raccontare anche dell'esperienza che ho avuto all'inizio quando da pretino giovane, che non sapeva ancora girare, organizzare le comunità, la gente adulta, mi sono espresso davanti al Vescovo di Novara che fosse un errore prendere un prete così giovane. Mi risposto che alla fine, essendo giovane, tu ti inserisci prima e così riesci a imparare meglio come gestire gli stranieri qua in Italia. Da cosa poi è nata un'opera molto più grande di come si pensava, che nel 2009, a noi è stata anche consegnata una chiesa al centro di Novara, abbiamo cominciato laboratori, scuole di catechismo con i bambini, adesso abbiamo più di 40 bambini che frequentano la scuola di sabato, abbiamo 5 comunità, spesso in diocesi, abbiamo altre attività che continuiamo a eseguire per il bene sia degli ucaini stessi, che fanno parte della mia comunità, ma anche dei novaresi. Fiduccia che abbiamo ricevuto da parte della chiesa novarese, poi si è trasferita anche a accogliere gli altri. Opere di quali non abbiamo pensato, per esempio, di restaurare la chiesa a Novara, fare altre iniziative che non riguardano più soltanto la comunità ucraina, ma riguardano anche i novaresi, sono cose nate spesso improvviste. L'ultima notizia che ancora testimonia la fiducia da parte della chiesa italiana e anche la creazione di una struttura fissa, stabile per l'Italia, con decreto del Papa, del luglio di questo anno, viene cato e esercato della chiesa ucraina in Italia. Ringraziamo per questa fiducia anche a Santo Padre, questa accoglienza che abbiamo ricevuto, ripeto ancora una volta, cerchiamo anche di trasformare accogliendo gli altri. Con questo concludo, siamo fiduciosi guardando il futuro, aiuti che abbiamo ricevuto da parte dell'italiana adesso servono anche ai nuovi italiani, questi ex stranieri che ormai non sono più stranieri, ma hanno deciso di stabilirsi in Italia. Quindi ringrazio per questa possibilità di parlare oggi. Buongiorno, sono Federico Nicola del Consiglio Pastorale della Parrocchia di Sant'Ippolito e Cassiano di Lumellonio a Novara. Lumellonio è un piccolo borgo, una frazione di Novara, che nel corso degli anni si è avuto sempre una impostazione di tipo agricolo, soprattutto legato a Riso, che è uno dei settori trainanti del nostro territorio, poi nel corso degli anni è sempre più diventato un quartiere popoloso della città di Novara. Come molti quartieri popolosi alla periferia risente anche di una serie di esigenze, soprattutto per i giovani per quanto riguarda il tema dell'integrazione, e dei giovani anche e soprattutto i non italiani. La nostra parrocchia ha deciso negli ultimi anni di poter avviare un'azione incisiva di integrazione che parte soprattutto da un'azione rivolta nell'aiuto ai bambini, quindi per quanto riguarda sia la scuola materna che la scuola elementare, attraverso una serie di azioni che possono unire sia la parte di educazione rivolta alle famiglie, sia la parte scolastica e soprattutto del gioco. Come fare questo? Attraverso un patto educativo che si crea tra la scuola, la parrocchia e la comunità. La comunità è uno dei temi fondanti che sempre di più molte volte vengono bistrattati, ma soprattutto nei centri piccoli creano l'unione tra le varie tipologie e le varie anche persone che si trovano, che possono essere credenti o non credenti, ma che donano il proprio tempo e la propria azione nella favore soprattutto dei più piccoli. Entriamo nel concreto. La nostra parrocchia e in primis il nostro parco Don Fabrizio Mancina ha voluto mettere in essere la mattina un servizio continuativo, significa tutti i giorni, da lunedì a venerdì, di accompagnare i bambini, quindi alle 7.30 i bambini vengono accompagnati, i bambini che necessitano di aiuto e che magari hanno una problematica proprio anche familiare. Parliamo di una comunità non piccola di 25-30 bambini che vengono accompagnati come a scuola, dalle 7.30 alle 8, quindi un'azione di prescuola. Quindi anche le azioni più banali che possono aiutare il bambino ad approcciarsi in modo corretto alla propria giornata lavorativa, chiamiamola scolastica. Alle ore 13 sempre il parroco con una serie di volontari va a prendere i bambini, i bambini e i ragazzi nella fase preadolescente, quindi le scuole medie inferiori, che hanno anche esse bisogno, vengono accolte all'interno della parrocchia, viene anche servito un pasto per proprio quelle situazioni in cui non c'è solo un disagio economico, ma anche un disagio dal punto di vista proprio organizzativo della famiglia, vengono accompagnati nel pomeriggio nel preparare la giornata successiva scolastica, quindi seguirli nei compiti, seguirli anche proprio nelle azioni preparatorie unite a un momento di gioco. Questo viene fatto tutti i giorni della settimana, da lunedì a venerdì e i risultati sono tangibili perché molti di questi bambini non sono bambini italiani, magari anche non bambini che professano la religione cattolica, ma che trovano all'interno di questo percorso educativo una piena integrazione. Oltre a questo il venerdì sera viene aperto a tutti i giovani del circondario una cena comunitaria che viene poi unita sia a un momento di gioco ma anche a un approfondimento su tematiche giovanili ed educative, quindi viene anche dato uno spazio ludico e anche di attività aggregativa il venerdì sera, visto che il sabato a scuola non si va e quindi anche da un punto di vista anche di integrazione e dal punto di vista religioso. Buongiorno a tutti, sono l'ingegnere Livio Lobiondo, sono responsabile supply chain di una multinazionale e coordinatore giovani Federal Manager Torino e membro del Comitato Esecutivo Nazionale dei Giovani Dirigenti Italiani. Sono qui con la mia collega l'ingegnere Roberta Laudito, Innovation Manager, membro attivo di Federal Manager Torino e del gruppo Minerva Torino, nonché responsabile del progetto Mitico. Puoi dirci due parole a riguardo? Buongiorno, certo con piacere. Mitico è un progetto che mi appassiona moltissimo, è un progetto che Federal Manager Torino ha sviluppato nel 2019, quindi quest'anno con Confindustria Canavese, con l'obiettivo di sostenere le imprese ad affrontare con successo i temi legati all'innovazione, innovazione che cambia il modo di fare impresa. Ogni impresa che è aderito al progetto ha identificato un referente per il programma che ha costituito quindi un team interfunzionale di innovazione che io ho il piacere di guidare con l'obiettivo di sviluppare in questo team le abilità per poter agire all'interno della loro organizzazione aziendale e il ruolo di antenne nei confronti dell'innovazione. Quest'oggi vogliamo parlare di welfare, in particolar modo di welfare occupazionale. Il welfare occupazionale racchiude tutte le iniziative, tutte le risorse messe in atto da manager e imprenditori illuminati per supportare il classico welfare, che è quello pubblico che nel tempo è sempre andato più in crisi e in sofferenza. A tal riguardo, ci puoi dire qualcosa in relazione all'interazione fra le iniziative del singolo e le iniziative dell'azienda? Questo è un tema cruciale. I manager e l'azienda, le imprese in generale, devono assolutamente essere allineati, quindi condividere un obiettivo fondamentale, che è quello di creare delle aziende moderne che siano in grado di generare valore in un modo continuativo, direi un sistema virtuoso che si autoalimenta e sostiene nel tempo. Welfare Lab per identificare delle soluzioni che siano soluzioni in grado di anche omogeneizzare il valore. All'interno delle numerose best practices, di sicuro una di maggiore appeal è quella della digitalizzazione. Come la digitalizzazione può aiutare in tal senso? Una buona pratica veramente molto diffusa per l'azienda è quella di utilizzare i social media per creare un'interazione custom e continuativa con i loro utenti, anche al fine di posizionare l'azienda come attore attivo all'interno del dibattito sull'innovazione e la tecnologia. Parlando di innovazione e tecnologia, sicuramente un ruolo predominante è quello dei giovani. Ci puoi dire due parole a riguardo? Io credo che i giovani vadano stimolati e proprio su questo tema voglio sottolineare un'iniziativa concreta di Federmanager Tonino che ha sviluppato una gara per identificare delle idee imprenditoriali innovative proprio da parte dei talenti per sostenere i giovani su queste tematiche. Mi fa piacere che hai citato la tematica della gara in quanto io sono un po' il papà di questo premio. La premiazione finale sarà presso il Teatro Asta per la festa natalizia dei dirigenti di Torino. Ultimo, ma non ultimo, vorrei citare il tema della sostenibilità e dell'interazione con le tematiche di cui abbiamo discusso fino adesso. Puoi dirci qualcosa a riguardo? Con esterno piacere. Il tema della sostenibilità è un tema molto attuale ed è importantissimo. L'economia sta da tempo vivendo una forte trasformazione in cui l'interesse della persona, l'interesse del pianeta, l'interesse del profitto devono convergere. Sotto la spinta forte dell'interesse dei consumatori, degli stakeholder e anche queste normative importanti sull'ambiente e sui temi sociali impongono lo sviluppo di un modello di business che sia sostenibile. Essere sostenibile per l'azienda non vuol dire semplicemente creare una casella organizzativa col titolo sostenibilità, ma vuol dire integrare quella che è l'attenzione all'ambiente e alla società nella missione e nella strategia. Un percorso lungo che presuppone un'apertura e un approccio all'innovazione e al cambiamento. Ben trovati, sono Dario Bonsignorio di Uni, l'ente italiano di normazione. Sono qui con Doriana Cozza della divisione innovazione per parlare di alimentazione e additivi, un tema al quale i consumatori sono sempre più attenti. Prima però ricordiamo chi è Uni e di che cosa si occupa. Uni è un'associazione privata senza scopo di lucro, riconosciuta dallo Stato e dall'Unione Europea, che si occupa di studiare e pubblicare documenti di applicazione volontaria, le norme tecniche e le prassi di riferimento. Circa 6.000 esperti all'anno si incontrano per mettere a fattor comune le proprie conoscenze e condensarle in documenti che dicono come fare bene le cose, quindi con più qualità, più rispetto per l'ambiente e più sicurezza. Questi documenti vengono poi utilizzati dalle imprese per offrire prodotti e servizi migliori e dai consumatori per effettuare delle scelte d'acquisto più consapevoli. Oggi in particolare parleremo di prassi di riferimento che sono dei documenti che grazie ad Unitasnello rispondono in maniera rapida ed efficace a delle particolari esigenze innovative della società. Che cosa sono e a cosa servono gli additivi alimentari? Gli additivi alimentari sono delle sostanze che aggiunte ad alimenti e bevande servono per colorarli, dolcificarli, ma soprattutto conservarli. Grazie allo sviluppo tecnologico gli additivi alimentari hanno permesso la conservazione dei cibi e delle bevande. Inizialmente è stato utilizzato il cosiddetto principio della lista negativa, per cui in una lista erano inserite delle sostanze che non potevano essere aggiunte ad alimenti e bevande in quanto pericolose per l'uomo. Però tutte le nuove molecole che venivano poi via via scoperte potevano essere liberamente utilizzate. Grazie a controlli più stringenti si è poi passati ad una lista positiva per cui soltanto gli additivi presenti nella lista ad oggi possono essere utilizzati come additivi alimentari. Quali sono le ricadute positive nella produzione e nel consumo di alimenti e bevande senza additivi? Diciamo che la scelta di utilizzare, di consumare, di produrre alimenti e bevande senza additivi è una scelta vincente sia per il produttore che per il consumatore perché si deve adottare necessariamente la cosiddetta filiera corta quindi una filiera che potremmo definire dal campo alla tavola. La filiera corta ha dei vantaggi intanto permette un maggiore utilizzo di tecnologie durante la produzione. Tutela maggiormente la salute perché riduce fenomeni di allergizzazione e sensibilizzazione degli utenti e quindi diminuisce anche la spesa sanitaria pubblica. Inoltre è molto più rispettosa dell'ambiente. Perché Uni è intervenuto su questo tema? Uni è stato sollecitato dai consumatori e in collaborazione con ACU, l'Associazione Consumatori Utenti, ha studiato e pubblicato la prassi di riferimento Uni PDR 57 che definisce i requisiti di produzione dei prodotti alimentari, quindi cibi e bevande, privi di additivi. Ha identificato un metodo di prova per stabilire che i cibi e le bevande siano effettivamente privi di additivi e infine ha introdotto una buona pratica relativamente all'uso degli imballaggi per la conservazione dei cibi e delle bevande senza additivi alimentari. E cosa possono fare infine i consumatori per minimizzare l'assunzione di additivi? I consumatori possono ricercare nell'etichetta dei prodotti e le bevande una etichetta che certifichi che è stata utilizzata la prassi di riferimento Uni PDR 57 per la produzione di quel prodotto. Bene, ricordo che la prassi di riferimento può essere liberamente scaricata dal sito internet www.uni.com collegandosi al catalogo online. Ringrazio Doriana e saluto chi ci sta seguendo in questo momento. I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione. Grazie a tutti.